Il primo giudice è partito Il primo giudice è partito Caramba Non è ancora un minuto? Brunce Grazie. 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 100 anni. Grazie. Grazie. Oh, 43, da sua brava. 50, 50. 50, 50. 50, 50, 50. 50, 50. 50, 50. 50. 50, 50. 60. 61. 50, 70, oh. 50, 70, oh. 51, velho. 80. 50, 90, oh. 50, 50, oh. 46, oh. 56, oh. 55, oh. 54, oh. 58, oh. 500, oi. 58, oh. 95 si 97 97 100 100 calma 8 ha dato 100 ha dato 100 ha dato 99 è una cosa 100 si si ah 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 un po' due, un po' due un po' due oloco non va a chebare un lungo un reclamo